Hola Todos Vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise Signori siamo tornati con un prodottino Mock Questa volta non c'è più la penna in stile Mont Blanc Ma abbiamo il ciondolo Per ipnotizzare i vostri amici Quindi guardate attualmente il ciondolo al mio 3 Vi sveglierete, anzi sarà un attimo di buio E poi vi immaginerete la mirrorless 1, 2 e 3 1 E ragazzi ci troviamo di fronte alla scatola della Mock e Cigarette In questo caso abbiamo More, la scritta è bellissima More, Van e Vape Più di una sigaretta elettronica Dai diciamo così Marchio che assomiglia sempre a un po' quello della Mont Blanc Ma questa volta abbiamo la rivoluzione Non abbiamo più la pod che assomiglia ad una Mont Blanc Ma abbiamo la pod Che è diventata una collana Una collana Andiamo a estrarre il primo pezzettino della pod E all'interno della scatola troverete una resistenza di ricambio Cordoncino per poterla portare come una vera e propria collana Ragazzi la resistenza non viene specificata Ecco qui la pod Noi andiamo ad estrarre ora la nostra cartuccia L'erogazione massima va da un minimo di 10 a un massimo di 16 watt Quindi completamente una pod da guancia Andiamo ad inserirla Ed eccola qua Il nostro ciondolo dello svapo Veramente carina Diversa dalle altre qualcosa di veramente differente Che potrebbe assomigliare non lo so Cerca persone o qualcosa Tipo non lo so Non ho mai visto una cosa del genere Ma a parte gli scherzi ragazzi Questa box ha 250 mAh di batteria Un pochettino poco secondo me E ha una capacità ovviamente di cartuccia di 2 ml E appunto una erogazione di minimo 10 watt E di un massimo di 16 Ma ora riempiamo velocemente la nostra cartuccia Ecco qui la nostra cartuccia Vediamo che c'è il marchio CE L'incisione MOC sulla nostra cartuccia Andiamo ad aprire In questo caso vado a metterci un liquido Al tabacco Al sigaro Perché non usi l'old school Perché purtroppo L'ho finito Nel senso che devo prepararne uno E appena lo preparerò Ce lo ficcherò dentro Perfetto Andiamo a chiudere Ora raga Una volta che avete riempito la vostra cartuccia Ovviamente non andate a svapare subito Aspettate quei 10 minuti Che si inzuppi il cotone Vediamo intanto al di sotto Che abbiamo presente Il cavo di ricarica All'interno Della nostra Del vano diciamo per la cartuccia Cosa che non è che mi faccia impazzire Perché se ci va un po' di condensa Buttate via direttamente la poda Ecco diciamo che questa non è stata una scelta molto intelligente Secondo me Per mantenere l'estetica Hanno voluto fare questa cosina qui Ma non è il massimo a mio parere Proviamo e vediamo Raga che altro dire Direi di passare Alla svapatina E alla chiacchierata finale E rieccoci tornati ragazzi Avete visto la magia Che vi porta via Magia 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 Stanno continuando a fare prodotti molto particolari Quelli della moca e cigarette Ma mi piacciono Allora si può utilizzare in due modi O con il cavetto corto Come ce l'ho io In stile bracciale Che è una cosa molto fica E che sparisce Nella manica E veramente non si vede Sembra un Così Ehi 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 Tutti così Tutti quanto lì È una malattia araba Un cordino messo lì E in realtà voi ci avete La pod nella manica Sparisce veramente molto bene O in alternativa si può utilizzare Come vero e proprio ciondolo Perché c'è anche la cordina più lunga Per utilizzarla in stile collana Allora ragazzi Purtroppo visto che non hanno messo Dico da quante sono le cartucce Non hanno messo la resistenza in ohm Dicono che va da un minimo di 10 watt A un massimo di 16 A mio parere una resistenza nettamente da guancia Che secondo me si aggira dall'1.2 all'1.4 ohm Aromaticamente veramente ottima Si prende un 8 su 10 E valorizza molto la parte del tabacco secco Inoltre il tiro è iper contrastato come piace a me Ricorda molto il tiro di una paglia Veramente ottimo L'ho provato anche con il mio old school La cartuccia in questo caso Ha 6 ricariche di Apollo liquido chimico Mentre con il mio organico Ne ha fatte 4 e mezzo Diciamo E è riuscita comunque a resistere Veramente molto molto bene E devo dire che la cartuccia Tiene regge E allo stesso momento Ha un ottimo aroma Passiamo un po' alle note negative di questa pod Che sono la batteria 250 mAh Un po' pochettini Se svappate compulsivamente Vi durerà sì e no una giornata Se vi va bene Se invece siete svappatori tranquilli Che svappano così occasionalmente Vi farà un giorno e mezzo All'incirca Ecco quasi un giorno e mezzo Non ho fatto vedere da vicino Con la mirrorless Qui c'è il forellino Al lato sinistro In questo caso Che è il led Che vi darà sempre Lo stato della batteria Anche qui Molto interessante Un'altro Un'altra nota negativa Qual è? All'interno Dove c'è il vano della cartuccia Per alloggiare la cartuccia Abbiamo visto da vicino Che ci hanno messo La presa per la ricarica usb Ora Non ha mai perso Non ha mai fatto Tanta condensa N'è mai pisciato più di tanto Quindi già qua È una nota positiva Ma Nel caso Dovesse sfiga esserci Una volta La cartuccia Quella un po' Sfigata Che non è stata fatta Alla perfezione E la goccia Va a cadere perfettamente Perché con la fortuna Che abbiamo noi i vapor La goccia Va a cadere dentro La presa della ricarica Butterete via la pod Quindi A mio parere Meglio spostarla Anche se viene esternamente Non succede nulla Non rovina l'estetica A mio parere Però Dentro è un rischio Ragazzi Questi della moc Secondo me Fanno prodotti Veramente molto 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 Interessanti Strani Più che altro Abbiamo visto La penna in stile Montblanc In questo caso Il ciondolo Pendolo Per mandare in trans I vostri Non a trans Mandare in trans Come ti chiama Mucciaccia Bella Mucciaccia Paolo Come me Ma non sarei mica un uomo Noi sei travestito Come Caimano Cambio Ma che te frega Samba da mignottera Samba da mignottera Samba da mignottera I vostri amici Che altro dire Ottimo prodotto Grazie Complimenti alla moc Perché è un prodotto Differente Rispetto agli altri Qualcosa di diverso E che altro dire Che dal mio angolo Dello swap è tutto Il vostro DJ Vise conclude Va a dirvi Buon ciondolo a tutti Con l'aga Samba da mignottera